Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Dunque io sono Mattia e oggi vi presenterò Vi presenterò questa nuova collezione Che si chiama Mostri della Palude Enco Dunque un'altra cosa che dovete sapere è che I personaggi di questa collezione sono 20 E guardate un po' che c'è dietro La bustina costa 2,99 euro In allegato a quella busta ci lo vedete anche Ci lo vedete anche un Enco Magazine Qui con giochi e quiz Come ho già detto i personaggi sono 20 E adesso Vediamo un po' com'è Ecco qua Dunque questo è il Magazine Ora vediamo Apriamo intanto la busta Come un po' ci ho trovato Ecco ragazzi ci ho trovato un coccodrillo E Vediamo un po' Cosa è uscito Mostri della Palude Enco Vediamo un po' Ci ho trovato Ci ho trovato l'alligatore cinese Dunque forza 3 Astuzia Astuzia 3 Aggressività 2 Varicità 3 Pericolosità 3 Poi qui dice che cambia colore con il caldo e con il freddo Dunque ragazzi Guardate un po' come diventa Tipo dal marrone diventa verde Verdino Bene ragazzi Vorrei farvi vedere il Magazine Ok Bene io con questo concludo e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti